Cari amici, un mio amico, un mio fratello mi ha suggerito di mandare ogni sera un pensiero a tutti voi in modo da sentirci vicini, ancora più vicini in questo momento così difficile. Ho pensato fosse utile trarre questo pensiero questa sera e poi le prossime sere, se Dio vorrà, da qualche testo letterario, soprattutto dalle letture che sto facendo in questi giorni in cui mi è concesso più tempo. In questi giorni sono andato a rileggermi alcune pagine di Alessandro Mazzoni sulla peste, famose pagine La peste del 1628-30, e poi anche alcune pagine di Albert Camus nel romanzo, anch'esso molto famoso, intitolato appunto La peste, che è stato pubblicato negli anni Quaranta. E poi, sempre di Camus, ho letto in questi tempi un altro romanzo, Il primo uomo. è un romanzo incompiuto che lui aveva scritto non completamente e che è rimasto inedito, era nella cartella in automobile quando lui morì nel 1960 in uno scontro automobilistico. E la figlia recentemente ha deciso di pubblicarlo. E accanto al romanzo, che appunto non è compiuto, e in tante parti è così un po' zoppicante, ma che è molto affascinante, e che descrive la sua ricerca del padre, ci sono i quaderni preparatori. Camus, come tanti scrittori seri fanno, preparava sempre i propri romanzi attraverso lunghe riflessioni, lunghe ricerche, appunti, e abbiamo i quaderni preparatori di tanti romanzi, anche di questo. E in uno di questi quaderni preparatori, ecco, sono arrivato a trovare una frase che è quella che voglio lasciare a voi questa sera. È una frase sull'amicizia. Camus pensa a due stagioni della sua vita, alla giovinezza e alla maturità. Non sapeva che di lì a poco sarebbe morto. E dice che nella giovinezza l'amicizia è come una sovrabbondanza. Ci sono tante cose che noi chiediamo agli amici, forse troppe. Chiediamo a loro una fedeltà incondizionata, chiediamo a loro tanti doni. Adesso, nella maturità, l'amicizia è più fatta di lunghi silenzi. Ma proprio questi silenzi ci permettono di scoprire la verità dell'amicizia, che essa è una grazia, è un dono. Dice esattamente Camus, un miracolo. Camus non era credente, anche se era profondamente segnato dall'incontro con il cristianesimo e soprattutto con la figura di Cristo, come documentano tantissimi appunti dei suoi diari, ma nello stesso tempo avvertiva tutte le aperture all'infinito che ci sono nell'esistenza. E una di queste aperture all'infinito è proprio l'amicizia. Bene, vi leggo allora questa sua frase, che è il mio pensiero per questa sera. Da giovane chiedevo agli altri più di quanto potessero darmi. Un'amicizia continua, un'emozione permanente. Ora so chiedere loro meno di quanto possono dare, una compagnia senza parole. E le loro emozioni, la loro amicizia, i loro nobili gesti conservano interamente ai miei occhi un valore di miracolo, un effetto esclusivo della grazia. A domani sera.